Per noi il tavolo è già stato chiuso tempo fa, gli accordi sulle elezioni, in particolar modo sull'Emilia Romagna, c'è già stato da tempo, abbiamo fatto diverse manifestazioni assieme, il nome di Lucia Borgonzoni è stato lanciato anche dalla piazza di San Giovanni, quindi gli alleati vorranno rendere noto questa ufficializzazione, ma di fatto per noi c'è già, quindi noi andiamo avanti, siamo forti, siamo avanti, e questa volta si può cambiare e chiediamo a tutti di voler veramente cambiare.